I primi attimi di vita sono i più complessi, i primi passi incerti, ma nella nostra famiglia abbiamo capito sin da subito che insieme tutto diventa più semplice. Sembra solo ieri e invece sono già passati 50 anni e guardando indietro quanto è lunga la strada che abbiamo percorso. Oggi Conad Adriatico non ha un solo volto, ma il volto di tanti, il vostro e anche quello di chi vi sta a fianco. Siamo una realtà importante perché crediamo profondamente nel nostro territorio. Affondiamo le nostre radici nella tradizione, nella nostra cultura e nella comunità che ci circonda, ma cresciamo esplorando nuovi orizzonti, puntando sull'innovazione tecnologica e credendo nelle nuove generazioni. Siamo diventati un simbolo per la gente, perché siamo genuini, siamo persone vere, persone sincere. Grazie per essere esattamente come siamo, per ogni giorno, ogni ora e ogni secondo passato insieme dal 1972. 50 anni fa abbiamo fatto il primo passo. Oggi corriamo più veloci che mai. domani impareremo addirittura a volare.